ciao amici sono gian dal 36 ed oggi voglio trattare di un argomento di cui non si parla mai ovvero le scatole con i relativi brown box ovviamente quando sono presenti perché non tutte le scatole li hanno ho deciso di fare questo breve tutorial perché troppo spesso vedo aprire le scatole in maniera sbagliata addirittura durante alcune recensioni vedo che la scatola viene presa viene aperta addirittura viene buttata per terra non va bene ovviamente l'argomento scatole viene spesso trascurato perché noi siamo concentrati su quello che c'è dentro ma nel collezionismo la scatola è importante tanto quanto il suo contenuto a volte anche di più quindi oggi in questo brevissimo tutorial io vi mostrerò come faccio io a conservare tutte le mie scatole nel miglior modo possibile usando alcuni piccolissimi accorgimenti anche banali di cui però nessuno parla e che invece io ritengo molto importanti ora come esempio io userò una scatola hot toys perché perché hot toys è un'azienda che cura il suo packaging in maniera eccellente è chiaro che questo tipo di discorso va bene con qualsiasi tipo di scatola ma secondo me una volta che uno sa gestire hot toys poi è in grado di gestire anche tutte le altre e quindi iniziamo subito punto primo il brown box il brown box non è altro che l'involucro che protegge la nostra scatola ora noi siamo abituati a riceverlo nel pacco e quindi poi apriamo il pacco e lo tiriamo fuori ma teoricamente il brown box nasce proprio già come pacco di sé cioè se noi dove c'è se noi dobbiamo spedire questa scatola qui così il pacco praticamente sarebbe già fatto perché questo non è altro che il pacco di spedizione c'è il cartone che deve avvolgere la scatola e proteggerla durante la spedizione mi è capitato a volte di ricevere non il pacco ma proprio solo il brown box con su tu appiccati su delle cose gli adesivi dell'ufficio postale proprio perché questo in origine nasce così poi noi collezionisti l'abbiamo trasformato anche lui in non un oggetto da collezione ma il suo primo scopo era proprio quello di essere usato come oggetto da spedizione e qui viene uno dei grandi interrogativi ma allora una hot toys con una scatola con il brown box vale di più assolutamente no vuoi che sia ben chiaro questo punto se voi mi chiedete ma una hot toys con il brown box vale di più no se poi invece mi chiedete ma una hot toys con il brown box è meglio sì mi spiego meglio per due motivi il primo è perché durante il trasporto me la protegge nel caso in cui il pacco prenda orti o altre cose secondo perché quando poi andrò ad aprirla e andrò a ritirarla mi riparerà la scatola a polvere o altro anche perché spesso questi fiscano in cima ad armadi si mettono in piedi uno dietro l'altro eccetera eccetera e quindi sono difficili da gestire le scatole sciolte col brown box dà sicuramente dei vantaggi quindi concludendo questo concetto perché è molto importante un brown box non aumenta il valore della scatola ma è sicuramente utile nel caso in cui ci venisse dato assieme alla scatola stessa punto 2 la gestione dello spazio la gestione dello spazio è un discorso abbastanza semplice ma che spesso si trascura anche quello nel momento in cui dovrò aprire una statua hot toys un qualsiasi cosa io saprò che dovrò avere un certo spazio in cui dovrò mettere la scatola imballaggio contenuto ci sono gli accessori e poi alla fine la statua la door stessa quindi dovrò già sapere prima dove andrà tutto perché spesso per la fretta l'apriamo e poi finiamo per buttare una cosa da una parte una cosa dall'altra quindi prima di aprire qualsiasi scatola sappiate bene di avere lo spazio a disposizione corretto perché deve essere quello giusto è una cosa banale ma vi posso garantire che spesso la si trascura punto 3 il righello e il taglierino esatto è proprio così righello e taglierino eccoli qua righello può essere uno qualsiasi basta un qualsiasi righello piatto che sia lungo almeno una trentina di centimetri come questo e il taglierino ora per aprire una scatola io ho visto usare i modi più disparati ho visto usare le chiavi la birro e a volte la forbice eccetera eccetera evitate prendetevi un taglierino anche perché non deve essere sfruttata tutta la lama ma soltanto la parte iniziale della lama anche lì dopo vi spiegherò perché in questo modo si evitano un sacco di problemi la forbice rischiate di tagliarvi le chiavi rischiate di rovinare la scatola la birro magari poi rischiate di scrivere dentro fare dei segni sulla scala quindi vi procurate un taglierino che poi va bene non userete solo per quello ma vi servirà principalmente per aprire le vostre scatole in modo che possiate regolare anche la lama e questo righello importantissimo ed ora vi faccio vedere perché ed ora possiamo andare ad aprire la nostra scatola una cosa però va detta aprire una hot toys è una cosa difficilmente equiparabile nel mondo del collezionismo chi ne ha aperta una sa di cosa sto parlando è qualcosa di incredibile di meraviglioso credetemi ok adesso possiamo andare ad aprire e mi raccomando per quanto riguarda taglierino tenete sempre la punta e basta non andate mai troppo in profondità sia quando aprite la scatola sia quando aprite il pacco perché se andate troppo in profondità rischiate di toccare la scatola di rovinarla quindi la apriamo il motivo per cui io preferisco aprirle da sotto è molto semplice il primo è perché una volta aperta non conviene più richiuderla quindi quando poi andrò ad appoggiarla il peso della scatola la sigillerà di nuovo sia che io la metta in questa posizione sia che io la metta contro un muro in questa posizione qui perché premendo c'è suo discorso rimane sigillata vi sconsiglio di riscocciarla e di metterlo scotch perché mettendole togliendolo mettendole togliendolo si tende a rovinare il cartone quindi è preferibile usare questo tipo di metodologia tanto una volta che è aperta da sotto e viene messa in questa posizione praticamente si auto sigilla una volta aperta la scatola andremo a sfilare il suo cartone di protezione sempre che ce l'abbia la giriamo al contrario in modo da aprire anche la scatola al contrario e tagliamo anche lo scotch che la chiude in questo caso era già stato fatto io lo faccio solo vedere perché tagliamo non cercate mai di staccarlo perché rischiate di rovinare il cartone della scatola quindi tagliatelo sempre e adesso viene la parte più importante aprendo la scatola appunto adesso voi non considerate questa che l'ho cambiata l'ho cambiata perché questa scatola è rovinata a causa del fatto che è stata aperta in maniera scorretta quindi cosa succede facciamo un movimento che fanno tutti e andiamo a aprire il coperchio così giusto sbagliato invece perché perché facendo questo movimento qui io andrò a piegare il cartone e a questo punto l'avrò danneggiato in maniera irreparabile perché questo qui adesso non tornerà mai più liscio come era prima se invece io avesse usato il famoso righello che vi ho fatto vedere molto semplice anziché fare questo movimento quando arrivate a questo punto infilate il vostro bel righello giocate un po' e fate così in questo modo non farete pressione sul lato del coperchio il coperchio rimarrà intatto è un movimento semplice banale ma che fa la differenza lo faccio rivedere una volta che la scatola deve essere aperta anziché aprirla a mano infilate sotto il righello un po' di gioco ed eviterete di rovinare il cartone ho fatto questa scatola perché l'ho comprata usata ed era già arrivata rovinata possono sembrare cose banali ma invece fanno sì che voi possiate conservare le vostre scatole nel miglior modo possibile questa è una scatola aperta in un modo sbagliato questa invece è una scatola aperta in un modo corretto mi sembra che si noti la differenza bene spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato anche utile so che sono cose banali e che molti le conoscono ma si danno spesso per scontate e può essere che magari a qualcuno fossero sfuggite perché a comprare siamo capaci tutti ma a conservare è un'arte nel prossimo tutorial vi parlerò di vetrine invece quali usare, quali sono più adatte per una cosa piuttosto che per un'altra come illuminarle quindi quali led sono più adatti e anche come renderle antipolvere come isolarle appunto dalla polvere se il video vi è piaciuto condividetelo sui social ricordatevi di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su ogni novità di questo canale io come al solito vi ringrazio e mi raccomando state senza pensieri ciao a presto